Ciao, ma cosa succede? Sei disperato perché non riesci a dimagrire l'interno coscia? Ma tu non hai le cosce grosse, non hai neanche le cosce e neanche le pinne grosse hai. Sono io disperata che ho due gambe che sembra che abbia la coda della sirenetta incorporata. Ciao amici, oggi ci alleniamo insieme per dimagrire l'interno coscia. Qui ci vorrebbe un miracolo anche per il resto della coscia. Non un miracolo, ma i miei consigli naturali. Ci sono tantissime amiche che mi hanno scritto di avere ottenuto ottimi risultati seguendo le strategie di questo video. Sono facili, veloci ed efficacissime. Per chi invece ha già ottenuto risultati all'esterno, ma vuole ridurre quei centimetri in più all'interno? Ecco, ora mi dirai che non c'è niente da fare. No, per l'interno coscia ci sono i miei esercizi facili, veloci, da fare a casa e adatti a tutti. Oggi li facciamo con la mia amica Serena, mentre voi guardate il video li faccio anch'io. E se vi piace l'idea di smaltire tutto il grasso dalle cosce, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Tanti mi piace, tanti mi piace. Tanti mi piace, tanti mi piace, tanti mi piace. Tanti mi piace, tanti mi piace, tanti mi piace. 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 Tanti mi piace, tanti mi piace, tanti mi piace. Tanti mi piace, tanti mi piace. Tanti mi piace, tanti mi piace. Tanti mi piace, tanti mi piace, tanti mi piace. 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 Grazie a tutti 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 Bene, l'importante è abbinare agli esercizi delle buone abitudini, sane abitudini come il menù bruciagrassi che ho spiegato in questo video E se volete seguire tutti i miei consigli per essere trendy e sani con Simona Vignali basta iscriversi al mio canale, è facile, con un click così e attivate la campanella delle notifiche Wow, sì, ma sono già più tonica e ora siate generosi e ora siate generosi, siate portatori sani di salute e di coscio perfette Certo, certo, naturalmente e io vi aspetto al prossimo video, ciao E se volete io vi aspetto al prossimo video Grazie a tutti